Nella formazione di questo nuovo governo ci siamo appellati al senso di responsabilità di tutte le forze politiche capaci di mettere da parte i loro obiettivi per promuovere il bene del Paese, il bene comune. Pertanto, facendo tesoro di questo buonsenso, capace di dare risposte concrete anche ad un fenomeno terribile, quale quello della pandemia che stiamo vivendo, mi preme dire una cosa che reputo essenziale. Bimbe di Conte, in barba alla coerenza, cambiate subito logo, modificate il vostro brand in bimbe di draghi, o meglio nuvolette di draghi. Non ve ne pentirete, vedrete like a grandine, vedrete che successo terremutante avremo noi e voi insieme sui social. Grazie a tutti e viva l'Italia!